ciao ragazze e ragazzi facciamo l'unboxing di questo pacco è arrivato in questo modo eccola qui la penna 3d vediamo cosa c'è all'interno sono questi filamenti di prova sono tantissimi colori questo è il poggio penna cavetto di ricarica carica batteria 5V 2A un altro proteggidito istruzioni ok non c'è nient'altro ok vediamola all'opera una volta inserito il caricatore si accende c'è scritto PILA bisogna premere il pulsante per accenderlo automaticamente arriverà a temperatura di 175 qui con questo pulsante si seleziona il tipo di filamento che può essere o PLA o ABS selezionato il tipo di filamento premuto il pulsante in basso va in temperatura quando raggiunge la temperatura il led diventa verde 210 gradi 200 gradi a una temperatura media del PILA inserisco il filamento quindi una volta raggiunta la temperatura metto il filamento premo il pulsante in basso ok inizio a tirarlo giù eccolo lì attenzione questa parte è molto calda ci si rischia di bruciare ok premendo questo pulsante di nuovo si stoppa per farlo riprendere si ripreme questo per togliere il filamento si preme il pulsante di sopra ecco qua ok direi che perfetto prodotto consigliato